C'è una parte della tifoseria, diciamo, imputa un po' anche a lei il fatto che la Ternana sia in queste, sia stata ceduta insomma a chi, tutto sommato, dopo un anno si vede che non poteva permettersi la cosa, ecco, lei come può rispondere? Dopo un anno, rispondo che dopo un anno ha speso 18 milioni, ora, io non so se qui tutti a Terli si possono permettere di spendere 18 milioni, però questo signore ha preso la Ternana, è passato un anno e mezzo, ha speso 18 milioni, ha fatto un campionato, è retrocesso. Ma questo può capitare a tutti, detto questo ha deciso e ha capito finalmente che il calcio è un posto dove si buttano soldi, cioè si vanno a guadagnare soldi e si buttano fogne di denaro, non essendo l'Inter, Mila, Juventus, cioè non essendo uno di quelli che si può permettere i debiti per un miliardo e mezzo e manco fallisce, perché voglio dare un assist al presidente della Fiorentina, quando dice che l'Inter doveva essere buttato fuori e non doveva fare più un campionato, ha ragione, perché con tutti i debiti che si ritrova, voglio dire, come tante altre squadre, io ricordo che la Juventus ha un miliardo e mezzo di debito, ora capisco che Stellanti se l'hanno portato a Francia, ma detto questo, si è rotto le scatole di spendere soldi nel calcio e sta vendendo questa squadra, la sta vendendo a chi? A uno? A uno che la paga e che paga dei soldi. Detto questo, io mi sono occupato di questa cosa perché ne ho un coninteresse, ma non per la Ternana Calcio, perché chiunque dica che è colpa mia, evidentemente ha un cervello da celebro leso, perché insomma io mi occupo di altro, dopo un anno e mezzo poi sei sempre colpa mia, se no vorrei dire chi è il primo che ha fondato la Ternana? No, perché sarà colpa sua a questo punto, perché se uno resta responsabile a vita, detto ciò, stanno vendendo, chi comprerà, a me interessa che faccia l'operazione stadio clinica, questa per me è l'operazione fondamentale ed è per questo che stiamo seguendo questa cosa da ieri sera. Quindi sul personaggio Mancini? Sul personaggio Mancini, ragazzi io non conosco Mancini, posso solo dire, io non conosco Mancini, posso dire che quando ha comprato il Latina, per chi ha fallito, so che tutti parlano, però io voglio dirvi, ci sono due parametri, ha comprato Latina il 23-24 se non sbaglio, mi sono informato, il giorno dopo il tribunale ha dato il fallimento, forse se mi permettete non è colpa del fallimento del Latina di questo signore, perché se io domani compro una casa e poi dopo domani la sequestrano, forse chi me l'ha venduta è un criminale, perché non mi ha dato le informazioni, siccome esistono le date e voi sapete riscontrarle, andate a vedere, uno compra questa società e fallisce pochi giorni, poche ore dopo, quindi io non lo so chi è Mancini, cosa fa, cosa lo fa, non lo conosco, conosco alcune persone che stanno intorno a lui, a me non mi sembra il mostro di Locke, è libero, ha tutti i diritti civili, non l'hanno arrestato, nel senso che mi sembra una persona, se compra la Ternana e fa giocare la squadra e non crea casini che ci sono, qual è il problema? Perché qui ci sono una marea di tifosi che hanno problemi, sa quando io feci la proposta di mettere 300 euro per uno e avere il 40%? Se la ricorda? Lei sa quante persone risposero a quella proposta? A Terni? No, 22, cioè allora esco mio i nomi dei 22, vorrei dire a tutti gli altri che andassene a fanculo, ci siamo? Ciao ragazzi! Si dà una cosa invece? Si, eh?